Musica Una situazione di crescente incertezza sul futuro occupazionale ha spinto i dipendenti dell'Enaia di a dichiararsi in stato di agitazione. A renderlo noto è la CGL provinciale attraverso una nota ufficiale. Mentre il centro sportivo l'Enaia di Di Pescara è pronto a riaprire i battenti il prossimo 16 ottobre, i lavoratori invece chiedono rassicurazione sulla loro posizione in questa nuova fase. Nella nota sindacale si esprime preoccupazione per la mancanza di chiarezza riguardo al destino dei dipendenti del centro sportivo. Nonostante abbiano fatto ripetute richieste di incontro con la Regione per discutere il passaggio dei lavoratori alla nuova gestione, ad oggi non è stata fornita alcuna disponibilità per un confronto. Vista la situazione e l'impossibilità di ricevere rassicurazioni sulla definizione del percorso di rioccupazione di tutti i lavoratori coinvolti, si legge nella nota, siamo a segnalare l'apertura di uno stato di agitazione di tutto il personale interessato, a cui seguirà in assenza di una tempestiva convocazione un percorso di mobilitazione. Nel frattempo, domani è prevista una conferenza stampa a cui parteciperà il nuovo gestore delle Naia di. L'obiettivo dell'incontro sarà illustrare i programmi e gli obiettivi per la riapertura del centro natatorio, gettando luce sul futuro della struttura e dei suoi dipendenti. I lavoratori sperano che questo evento possa fornire risposte concrete alle loro preoccupazioni e gettare le basi per una soluzione soddisfacente per tutte le parti coinvolte.